Cosa ne pensa di come i mass media e la televisione trattano il tema della sicurezza? Il tema della sicurezza potrebbe fare di meglio. Si sente sicuro ad Argenta? Sì, in linea di massima sì. Sempre sapere di che tipo di sicurezza intende. Sicurezza in generale? Sicurezza in generale sì, però qualche cosa, qualche pecca c'è. E secondo lei le istituzioni svolgono il proprio lavoro? Con quel che possono fare sì. Finanziamenti anche. Cosa ne pensa di come i mass media trattano il tema della sicurezza? Riescono a fare, fanno come possono secondo le finanze che hanno. Signora si sente sicura ad Argenta? Sì. Perché? Perché abbiamo dei buoni vigili, abbiamo una buona, insomma, speriamo che ci guardino un pochino bene. Quindi secondo lei le istituzioni svolgono il proprio compito? Beh, non sempre. Insomma, è una cosa giusta. Perché siamo sicuri, perché abbiamo i vigili, abbiamo i carabinieri che ci guardano. Però c'è anche tanta... un po' di quei ragazzi lì che fanno un po' arrabbiare, quindi... E cosa ne pensa di come i mass media trattano il tema della sicurezza? Beh, sì. Quando succede qualcosa ce lo fanno sapere, insomma. Si sente sicura ad Argenta? Sì. Diciamo che è un paese che finora non ho sentito delle grandi cose come succede in altri paesi. E secondo lei le istituzioni svolgono il proprio compito? Beh, questa è una domanda un po' difficile da rispondere. Diciamo che io, essendo un testimone di Geova, riguardo alla giustizia la vedo diversamente, forse come la vedono i nostri politici. Perché io vedo che i politici parlano, promettono però dei risultati e non è che ce ne siano tanti. Almeno quello che si vede in generale. E cosa ne pensa di come i mass media trattano il tema della sicurezza? Cosa intende per mass media? Televisione, radio, giornali? Ecco, la televisione, diciamo che io ho notato una cosa, che fa molto propaganda a maggior parte, perché anche quello che è successo di quella ragazza, che è successo quello di io che ha ucciso quella nipote, diciamo che ne hanno parlato, hanno fatto un dramma di quella cosa tuttora. Questo non aiuta la giustizia, anzi questo sta mettendo più fango, più se ne parla e più diventa un dramma per tutti. Siamo già abituati ormai a tutte queste cose. Si sente sicura d'Argenta? Ma sì. Perché? Perché per il momento mi sento sicura a girare per Argenta. Non ho nessun tipo di problema. E secondo lei le istituzioni svolgono il proprio compito? Secondo me sì. E cosa ne pensa dei mass media, come trattano il tema della sicurezza? Mass media in generale? Sì, telegiornali. Beh, a volte esagerano su alcune cose e non trattano l'argomento in maniera dovuta. Si sente sicura d'Argenta? Sì. Perché? Perché mi trovo bene come paese, come gente, come clima, come tutto. Cosa ne pensa di come i mass media trattano il tema della sicurezza? Cosa ne penso? Per la sicurezza? Sì. Cosa? Come le radio, i giornali, la televisione trattano il tema della sicurezza? La televisione non tanto bene, sono un po' ramariccato perché vedo e sento discussioni che per me non hanno una grande importanza. Crede che le istituzioni compiano il proprio lavoro? Ma io ho speranza che dovrebbero fare il loro lavoro. Specialmente una persona se ha una responsabilità deve rispondere della propria responsabilità, non fregarsene. Perciò direi che si spera sempre, si spera sempre che la cosa vada in buon porto. Si sente sicura d'Argenta? Abbastanza, per essere una piccola cittadina sì. Non c'è poi tutti questi problemi grossi che magari si possono trovare in una grande città, però sì, diciamo di sì. Si sente tutelata dalle forze dell'ordine? Crede che le forze dell'ordine compiano il proprio lavoro? Da quel poco che conosco io sì, si sforzano di fare il loro dovere. Comunque sia, come ho detto prima, essendo una piccola cittadina, bene o male la maggioranza delle persone si conoscono, non ci sono grossi problemi in generale. E sì, fanno il loro lavoro dai. E cosa ne pensa dei giornali, della televisione che parlano della sicurezza? Che opinione ha? In generale? Sì. Eh beh, bisognerebbe migliorare tante cose, però penso che non ci riescano comunque. Che consigli darebbe per migliorare, come dice lei? Che consigli? Eh, bisognerebbe educare la gente. Forse quello sarebbe la cosa migliore. E cosa ne pensa? Sente che i suoi figli sono sicuri, magari a scuola, anche proprio parlando delle strutture in cui si trovano. Le scuole secondo lei sono sicure? Ehm, qui ad Argenta, sì dai, sono strutturate abbastanza bene, anche se ci sono da migliorare alcune cose. Si sente sicuro in questo paese? In questo paese, abbastanza, sì. Si sente tutelato dalle forze dell'ordine, dai carabinieri, dalla polizia? Sente che svolgono il proprio compito? Beh sì, li vedo girare, io girando anche la notte li vedo girare, perché è il mio lavoro che faccio io. Li vedo, ecco. Non so dirti cosa intendi anche come sicurezza, hai capito? Bene o male, il paese è ancora abbastanza piccolino, ma ancora abbastanza tutelato, ecco. Lei ha avuto delle esperienze per quanto riguarda, non so, furti? No, no, no. Assolutamente no. Nessun tipo di esperienza così. E cosa ne pensa di come i mass media trattano il tema della sicurezza? Forse esagerano anche, come la vedo io. Hai capito? Sì, è vero che io vedo che ci sono sempre state poi queste cose, anche i furti così ci sono sempre stati. Dei grossi incrementi, a occhio non credo che ce ne siano. Dopo, non saprei dirti, ecco, sì, sai cosa? Che adesso si fa più, c'è anche più informazione, magari aspetto una volta, adesso si imparano delle cose che una volta non si imparavano, ecco. Grazie.